Nel 2020 le chiamate all'1522 e il numero di pubblica utilità contro la violenza allo stalking sono aumentate al 79,5% rispetto al 2019 sia per telefono che tramite chat e quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istat nell'ambito dello studio le richieste di aiuto durante la pandemia. Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo con picchi ad aprile a maggio ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne. La violenza segnalata all'1522 è soprattutto fisica ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza come quella psicologica. Rispetto agli anni precedenti sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni e delle donne con più di 55 anni. Riguardo agli autori aumentano le violenze da parte dei familiari mentre sono stabili quelle dei partner attuali. Lo si legge sempre nel report. Durante i primi mesi, i primi cinque mesi del 2020 sono state 20.000 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza con differenze territoriali molto accentuate. In particolare la media di donne accolte in questi centri è pari a 73 ma arriva anche a 108 nel nord-est, circa 95 nel centro, mentre al sud nelle isole 43-47 donne come media. L'incremento delle donne accolte nei CAV nei primi cinque mesi del 2020 rispetto ai primi cinque del 2019 non è molto importante, solo più un per cento, ma sul territorio le differenze sono rilevanti. Si va da più 41% nelle isole a più 21% al sud, più 5,4% al centro, 5,2% a nord-est. Tra le donne che si sono rivolte ai centri nei primi cinque mesi del 2020, l'8,6% lo ha fatto proprio a causa di circostanze scatenate o indotte dall'emergenza dovuta al Covid-19, come ad esempio la convivenza forzata.